Allora, il Milan perde e perde male decisamente contro Sassuolo una partita che nessuno si aspettava potesse finire così dopo la straordinaria notte vissuta contro l'Atletico di Madrid. Ecco, il nessuno forse merita una correzione. Qualcuno aveva indicato un rischio del Milan. Mi ci metto di mezzo, sbagliando tante previsioni, però a volte anche capendone altre. E cioè, quando ho detto più volte, proprio anche in questi discorsi che facciamo qui sul nostro sito, sul nostro canale, occhio che il Milan non è costruito per vincere. Il Milan è costruito per essere sostenibile, che è diverso. E questa è la dimostrazione, quello che è accaduto in campionato, nelle ultime due partite di campionato, di questa tesi. E cioè, se tu vuoi avere una squadra sostenibile, che abbia un bilancio, che non vada in eccessivo passivo, che si possa un giorno rivendere con un buon profitto, perché questo è quello che vuole fare Elliot, legittimamente, non puoi pretendere che questa squadra vinca e domini i campionati. Può succedere che ci siano delle stagioni particolarmente positive, può succedere anche che ci siano delle stagioni particolarmente negative. C'è una fluttuazione tra una stagione ottima e una deludente, che rientra nei rischi che ci si prende quando si vuole fare una società con i conti in ordine. Una società buona, con i conti in ordine, sta in una posizione di medio-alta classifica, se va bene anche di altissima classifica, ma non ci rimane per molto tempo. Perché? Perché subisce inevitabilmente la concorrenza di chi i conti non li vuole tenere in ordine, o perché si indebita, o perché ha una proprietà che, mettendo tanti soldi, spende al di là dei mezzi che potrebbe avere questa società, la finanzia in tanti modi. Insomma, i casi li vediamo benissimo in Inghilterra come in Francia. E quindi ti devi rassegnare, devi accettare una dimensione diversa. Questa è la dimensione del Milan. Il Milan, che è costruito bene rispetto ai mezzi che ha a disposizione, può fare una grande serata e magari vincere contro l'Atletico Madrid, ma rischia sempre di fare invece poi delle partite deludenti. Perché? Ma per una ragione molto semplice, perché il Milan non ha fuoriclasse. E non avendo fuoriclasse, quando la partita gira male, non riesci più a raddrizzarla. Quando il gioco di squadra non è una sinfonia, poi finisce come finita col Sassuolo. Mettiamoci poi le colpe di Pioli, perché Pioli ha sbagliato. Ha sbagliato in maniera grave. Pioli è un buon allenatore, non è un mago. Se fosse un mago ce ne saremmo accorti prima. E a volte forse si fa un po' prendere la mano da una piccola presunzione. Qual è stato l'errore di Pioli? L'abbiamo visto tutti. Pioli mette in campo un centrocampo che non si era mai visto prima, un centrocampo di riserve. Oltretutto, le riserve del centrocampo del Milan, Baccaio Cossi, innatamente, sono pessime. Il fatto che Baccaio Cossi sia tornato al Milan rimane uno dei grandi misteri del mercato rosso-nero. Il Milan l'aveva visto già quando era con Gattuso e aveva notato che era un centrocampista un po' pachidermico, non certo dotato di grandi qualità. E non si capisce per quale ragione l'abbia voluto riprendere, magari mandando via Pobega, che poteva essere una riserva di maggior rendimento. È stata evidentemente una valutazione sbagliata. Lo si è capito anche dalle poche volte in cui Baccaio è entrato in campo. E metterlo titolare in una partita come quella con il Sassuolo è stato un rischio che non avrebbe dovuto correre Pioli. Che mette Ben Nasser, grande progetto di centrocampista mancato ad altissimi livelli. Due anni fa si diceva al Milan che è lui il grande centrocampista del futuro, vi ricorderete, il miglior giocatore della Coppa d'Africa. In realtà poi Ben Nasser tra infortuni, problemi, mancata crescita, è rimasto un giocatore fondamentalmente inespresso, buono, con qualche buon colpo ma senza la continuità necessaria per essere un protagonista. A differenza di Cassi che invece poi è cresciuto in maniera esponenziale. E quindi quando tu giochi contro il Sassuolo, metti inspiegabilmente, dobbiamo dirlo, Ben Nasser e Baccaio Co, anziché far giocare i titolari che in questo momento sono Tonali e Cassi, rischi poi di trovarti sotto nel secondo tempo 2-1 e lì la partita diventa difficile da recuperare. Anche perché poi Cassi quando entra non ha probabilmente la migliore delle sue espressioni mentali di concentrazione, lo stesso di Cassi poi per Tonali. Ecco, giocare con una squadra il cui motore centrale è un motore di riserva, in una partita così importante che Pioli ha sottovalutato, porta poi a questi disastri. Perché? Perché Mina veniva già da una sconfitta e perdere la seconda partita consecutiva in campionato apre tutta una situazione di insicurezza, di incertezza interna che poi si riverbera nel tempo. L'Inter, a sua volta, non ha grandissime alternative a centro campo. Certo, Vidal, per quanto sia anziano, è sempre meglio di Baccaio Co, lo stesso di Cassi di Vecino o di Gagliardini. Eppure abbiamo visto l'Inter che ha continuato sistematicamente a far giocare Brozovic e Barella proprio perché in zaghi e prima di lui Conte capivano che non potevano essere loro i giocatori che si toglievano in una squadra quando la partita era da vincere. Ecco, che il Milan dovesse vincere a tutti i costi la partita contro il Sassuolo era evidente, lo ha capito forse tardi Pioli quando poi si è presentato visibilmente corrucciato in conferenza stampa. Ma se tu ritieni di poter battere il Sassuolo facilmente con Baccaio Co e Benassia lasciando fuori i titolari commetti un errore di valutazione. Un errore che il Milan rischia di pagare poi perché quando la squadra perde in sicurezza diventa poi complicato ritrovare un certo spirito. Senza contare che il Milan aveva tutto il tempo poi di fare un pochino di turnover più ragionato perché dopo la partita con il Sassuolo c'è la trasferta a Genova col Genoa che non è impossibile e poi la partita in casa con la Salernitana. Senza contare che la gara con Liverpool per quanto sia lecito o legittimo sognare una incredibile qualificazione in Champions League probabilmente potrebbe essere data come una gara da considerare non determinante per la stagione a differenza invece del vero obiettivo del Milan. E qui torniamo al discorso iniziale. Qual è il vero obiettivo del Milan in questa stagione? Secondo me sarebbe ingeneroso chiedere all'allenatore, ai giocatori, alla società di vincere il campionato anche se l'anno scorso il Milan è arrivato secondo. Quando il Milan dovesse arrivare terzo, quarto in classifica avrebbe fatto assolutamente il proprio dovere sarebbe stato perfettamente nei programmi e se non dovesse vincere lo scudetto neanche quest'anno nessuno potrebbe fargliene una colpa. Anche perché si può essere bravi e riuscire a trovare dei giocatori di ottimo livello spendendo poco. Il Milan ci è riuscito tutto sommato. Se pensiamo ai tanti giocatori che citavamo anche recentemente, ai Salemakers, ai Calulu, ai Messias poi magari fai delle operazioni invece in cui andando a cercare loro nella paglia, come si dice, loro non lo trovi e allora magari scopri che Florenzi non è stata un'operazione finora azzeccata che Pellegri non dà quello che ti aspettavi che lo stesso Giroud per tante ragioni non è Dzeko che pure ha un anno più di lui e l'Inter paga un milione e mezzo più di lui ecco, si sbaglia nel calcio. L'importante però è sempre capire quali sono le prospettive rispetto agli obiettivi e alla filosofia. Il Milan non ha in questo momento una proprietà che vuole spendere molti soldi per illustrare il proprio potere a un fondo che si occupa di tenere i conti in ordine e poi di vendere a qualcuno guadagnandoci. Lo sappiamo, lo sanno loro e tutto sommato prendersela col Milan se non vince lo Scudetto o se perde in casa Corsassuolo è ingeneroso. Ma va detto che bisogna chiedere e pretendere all'allenatore di avere una concentrazione maggiore soprattutto in partite come questa perché il segnale che è stato dato, sbagliando, da Pioli è stato quello di una partita tutto sommato abbordabile da giocare anche con qualche riserva e alla fine i tre schiafi in faccia li ha presi soprattutto lui.